Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi volevo parlarvi di un essere vergognoso, di uno youtuber juventino, il suo canale si chiama Danio Orgoglio Gobbo e ora vorrei cominciare con il mostrarvi due mini clip attraverso le quali potrete iniziare a capire di che essere si tratta e poi ne parliamo insieme. Allora come vedete qui l'altro giorno lasciai un commento sotto ad un suo video e guardate qui lui con che link mi risponde. Allora ragazzi avete visto questa è gente che non solo non merita di stare sul web ma è gente che non merita di stare sul planisfero. Avete visto quei commenti? Avete visto? Quei commenti sono commenti in risposta a chi aveva soltanto criticato il suo modo di fare e lui ha risposto offendendo la città di Napoli e offendendo i napoletani in generale. Ovviamente il commento peggiore di tutti è il primo che vi ho mostrato dove ovviamente augura la morte di tumore a tutti noi. Poi ci chiama ritardati che è un'offesa pesantissima sul personale e poi dice anche che non abbiamo il diritto di parola. Lui ovviamente dice che noi non abbiamo il diritto di parola. Ma tu chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei per dire che noi non abbiamo il diritto di parola? Chi sei tu? Tu non sei nessuno. Tu non sei nessuno per dire che noi non abbiamo il diritto di parola. Ma vergognati! E se noi non abbiamo il diritto di parola ti ripeto, tu non hai il diritto di stare sul planisfero. Gente come te dovrebbe stare soltanto al riformatorio. Ma vergogna, vergogna. E poi se andate a vedere il canale di questo qui, la maggior parte dei suoi video sono tutti sul Napoli. E' ossessionato, è ossessionato. Ma anche quando fa video che non si parla di Napoli, qualche riferimento non manca mai. Gli abbiamo trapanato il cervello, gli abbiamo trapanato il cervello. Cioè proprio siamo sempre fissi qua nella sua mente, ci pensa sempre, siamo sempre nei suoi pensieri. E' ossessionato, ci sogna pure di notte. E' una dimostrazione, è il fatto che l'altra sera fece il video su Argentina-Croazia. E scrisse un commento stesso sotto al suo video dicendo che l'Argentina perde perché è tifata da noi napoletani. Allora, prima di tutto questo qua, ovviamente, ripeto, dimostra l'ossessione che tu hai nei nostri confronti perché non c'è un video dove non ci nomini. Ma chi ti ha detto a te che noi tifiamo per l'Argentina? Chi te l'ha detto a te che noi tifiamo per l'Argentina? L'Argentina c'era una volta sì simpatica a noi tifosi napoletani, ma in questi ultimi anni sicuramente meno rispetto al passato. Bah, vabbè. E poi, come avete visto, oltre ad essere un ossessionato, è un vero e proprio razzista, ragazzi. È un vero e proprio razzista e lo ha dimostrato quel primo commento che vi ho mostrato dove augura la morte di tumore ad un popolo intero. E allora, e poi, quando si riferisce ai cori che la sua tifoseria fa nei confronti dei napoletani, non se ne distacca mai. Mai ha detto io mi distacco da questi cori, non sono d'accordo con questi cori. Si para sempre il deretano dicendo che anche noi facciamo questi cori quando poi è una cretinata assoluta. A noi di farli, cioè, io non li faccio mai e tanta altra gente come me, napoletani, non li fa mai. E per quanto riguarda i napoletani, questi cori si vedono soltanto ogni morte di papa da parte di una decina di ultras. Ma voi, il 90% della vostra tifoseria, siete questi. Il 90% della tifoseria è gente vergognosa come te, gente che si dovrebbe soltanto vergognare come te. Perché noi allo stadio andiamo soltanto per sostenere la squadra e nei confronti delle squadre rivali non si va mai oltre lo sfottò. Perché per me lo sfottò ci sta e sapete che sono il primo ad avere un odio sportivo nei confronti della Juve. Ma nel mio canale non avete mai visto offese sul personale. Mai. Ci sono stati diversi video sfottò nei confronti della Juventus da parte mia, ma non ho mai offeso nessuno sul personale. Non sono mai andato oltre la rivalità calcistica. Cosa che loro fanno, vanno sempre oltre. E poi, quell'altra clip che vi ho mostrato, come potete vedere, io gli lasciai un commento sotto ad un suo video e lui mi rispose con un link. E quel link, come vi ho fatto vedere, porta al coro Napoli usa il sapone. Che poi no. Oltre ad essere ossessionato e razzista, sei anche ignorante. Sei anche ignorante. Perché serve un briciolo di cultura, caro mio, per sapere che Napoli è stata la prima città italiana dove è stato usato il sapone. Un briciolo di cultura serve. Beh, non è che serve una laurea per sapere una cosa del genere. Quindi siete anche tu e tutta la tua tifoseria che cantate e aizzate questi cori, siete anche ignoranti. E poi no. Tutti sappiamo la vicenda di quando gli under 15 della Juve, dopo aver battuto il Napoli nella semifinale playoff, negli spogliatoi, cantarono il coro Usa il sapone. E lui ha fatto un video dopo questo avvenimento di questi, come li vogliamo definire, esseri che hanno cantato Usa il sapone negli spogliatoi e questo è stato il loro modo di festeggiare la vittoria. E lui dice che faceva anche di peggio, che è un coro che ci sta, è un coro che ci sta e lui faceva anche di peggio. Cioè, dice che lui faceva anche di peggio e non vergogna nemmeno di dirlo. Cioè, proprio sei una persona senza vergogna e senza identità. Senza vergogna e senza dignità. Vergognati, davvero, te lo dico per per l'ennesima volta. Vergognati. Diceva che sono sono ragazzini di 15 anni, non capiscono certe cose. Ma non capiva perché ci vuole una laurea per sapere che usa il sapone non è un è un coro razzista. ci vuole una laurea per saperlo. Che poi tu anche in questa occasione non ti sei distaccato da questi cori. Non hai detto manco una volta che quelli lì hanno sbagliato a fare quel coro. E continui ad aizzare questi cori e che tu aizzi questi cori l'hai dimostrato rispondendomi con quel link sotto a quel tuo video. Lì hai dimostrato tutto il tuo tutto il tuo razzismo. Che poi no dopo pochi giorni Napoli Juve si gioca anche nei pulcini. Vince il Napoli e i ragazzini del Napoli pubblicano i loro festeggiamenti negli spogliatoi cantando soltanto cori ad incitamento della propria squadra e nessun coro discriminatorio nei confronti degli avversari. E quelli lì sono ragazzini di 12-13 anni. Quindi come puoi ben vedere tu dici che i tuoi ragazzini di 15 anni sono ragazzini di 15 anni e quindi possono farli cori razzisti. Però intanto i nostri ragazzini di 12-13 anni non l'hanno fatti e quindi i nostri ragazzini di 12-13 anni si sono dimostrati diciamo si sono dimostrati più maturi dei tuoi di 15 anni. Cioè perché uno a 15 anni non ce l'ha il cervello? Io ti sto facendo un discorso da 16enne da uno che a breve diciamo compirà 17 anni ma attualmente ho ancora 16 anni. Cioè io e poi fa la vittima fa la vittima si mette a fare la vittima ragazzi dice noi noi le morali dai napoletani non le accettiamo ma ma cioè ma ma vi rendete conto cioè come si dice a Napoli il bue chiama cornuto all'asino cioè vuole dire quasi quasi che noi siamo come loro ma cioè voi ogni domenica ogni domenica ci augurate il peggio nella vostra curva e e non volete la morale da noi la morale da noi la dovete avere perché la maggior parte ripeto siamo tutti tifosi che sostengono soltanto la propria squadra e che hanno una passione infinita per la propria squadra ah poi un'altra cosa che ha detto voi non avete vinto niente nella vostra storia quindi non potete parlare quindi no secondo il suo ragionamento chi non vince nulla chi è tifoso di una squadra che non vince non può parlare quindi questa è l'ennesima dimostrazione che lui così come tanti altri tifosi juventini sono soltanto personalità deboli che si attaccano alle vittorie della Juve per farsi per farsi forti ma noi avremmo vinto anche poco nella nostra storia ma i nostri due scudetti valgono centomila volte di più dei tuoi dei tuoi 34 35 quanti sono valgono centomila volte di più poi dicevo in Europa non valete niente guarda tu le due champions che hai vinto non le puoi considerare perché una l'hai vinta attraverso un rigore inesistente e l'altra l'hai vinta con la squadra dopata e poi ti ricordo anche giusto per ricordarti che Napoli e Juve una volta si sono scontrate in una competizione europea e abbiamo vinto noi quindi va vabbè se noi non possiamo parlare c'è veramente un essere assurdo ragazzi un essere assurdo a izaco rirazzisti parla sempre male dei napoletani ci ha sempre in mente ossessionato invidioso ignorante e razzista questo sei poi ha come amico quello che dice di essere un grandissimo tifoso del Napoli peppone cuore azzurro grandissimo tifoso del Napoli ragazzi grandissimo tifoso del Napoli colui che non ha mai detto una parola contro la Juve mai si fa praticamente so giocare da questo qui e mi fa anche un po' pena sinceramente parlando ragazzi perché molto amico con questo qui e danni orgoglio gobbo difende la sua squadra e quando parli di favori arbitrali alla Juve si arrabbia come a che facerti videosfogo che non avete idea mentre peppone non si è mai lamentato dei favori arbitrali alla Juve e riferendosi ai cori razzisti che fanno nei nostri confronti ha detto che non gliene importa nulla e questo significa essere napoletani caro mio tu ti fai ingannare da questo qui e guarda che tante volte anche i migliori amici ti usano perché quello lì ti usa per far vedere agli altri ecco il tifoso napoletano che dà ragione a noi peppone dice di essere sportivo ma tu se dici così non sei sportivo ma caro mio tu si fess tu si fess caro mio tu si fess vabbè ragazzi ho detto quello che dovevo dire guarda un po' danni orgoglio gobbo vergognati vergognati davvero vergognati io ti consiglierei di di farti un esame di coscienza e di guardarti tutti i tuoi video e inoltre no abiti a venezia tieni quel bel mare vatti a fare di mattina presto un bel bagnetto così ti rinfreschi proprio tutto ah bello soprattutto le idee mi raccomando rinfrescati soprattutto le idee perché ne hai ben bisogno ciao a tutti ragazzi e sempre forza napoli